Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Java In questo video andremo a creare appunto una nuova query e vedremo come fare l'inserimento tramite appunto programmino Java di dati all'interno di un database MySQL Prima di tutto dobbiamo fare una piccola cosa dobbiamo aggiungere nella create un bel auto increment qui per semplificarci la vita così l'id appunto verrà aggiornato automaticamente incrementato automaticamente non dovremmo scriverlo noi e io direi anche una bella drop database if exists qui quindi un attimino allora dobbiamo fare facciamo una string q drop database if exists pizza poi qua facciamo praticamente la dobbiamo eseguire quindi a questo punto la mettiamo qui prima di eseguire query eseguiamo q in questo modo il database viene cancellato sempre e poi viene ricreato ed evitiamo che appaiano errori della serie eh ma guarda che database c'è già va bene quindi abbiamo fatto questo eh abbiamo aggiornato con l'auto increment andiamo ad aggiungere un bel finally dopo il catch perchè non abbiamo inserito una cosa importante che è la chiusura della connessione qui dobbiamo fare un con punto close però il con siccome la connessione l'ho creata qua dentro non posso farlo nel finally e allora la dobbiamo dichiarare fuori quindi facciamo quindi facciamo questo con lo lasciamo dentro ma lo dichiariamo qua e li mettiamo che connection con è uguale a null così non ci sono problemi e qua lo possiamo andare a chiudere con una con punto close questa è una funzione che va richiamata alla fine di ogni programma di questo genere appunto quando apriamo il database perchè dobbiamo assicurarci che la connessione sia chiusa altrimenti poi perdiamo il controllo appunto di questa connessione me lo segna come errore perchè ovviamente siccome con è uguale a null non la riesce a chiudere quindi dimettiamo che lo deve fare soltanto se con è diverso da null giusto due parole per chiarirci sul finally il finally viene eseguito sempre quando parliamo di un try catch fa parte appunto del try catch che in realtà è try catch final quindi lui proverà ad eseguire queste istruzioni che ci sono nel try se trova un problema va nel catch e dopo il catch esegue il finally oppure il finally lo esegue anche se non ci sono problemi vuole ancora un try catch qua intorno quindi lo andiamo a mettere oppure mettiamo un throws che facciamo prima perfetto e vediamo un po' ok quindi adesso siamo pronti per andare a installare a creare la nuova query per fare questo siccome faremo una query di inserimento io direi di non utilizzare una variabile di tipo statement ma di utilizzare una variabile di tipo prepared statement cosa cambia? cambia che i prepared statement sono molto più utili per quanto riguarda proprio gli inserimenti dato che possiamo creare una diciamo una base della nostra query e andare a modificare dei campi che lasciamo praticamente in bianco quando creiamo la query ora lo vediamo bene così capita anche meglio quindi prepared statement lo chiamiamo che ne so q preparata oppure prepq sta per query preparata e per crearla per inizializzarla abbiamo bisogno di una della connessione che è appunto prepari lo statement quindi vuole questa qui come parametro una stringa che adesso andremo a creare facciamo una string q inserimento e la facciamo uguale a insert into la tabella si chiama prova andiamo a mettere solo il nome perché è la chiave primaria se la vede lei con l'auto increment che valore che valore mettiamo un punto interrogativo perché poi con il prepared statement lo potremo modificare quindi il nostro prepared statement avrà come base quello e dopo di che per andare ad impostare quindi a modificare questo punto interrogativo con il valore che noi vogliamo inserire ci basta fare un q inserimento no scusatemi un prepq punto set e qua vedete che ne abbiamo tante abbiamo setint long array eccetera eccetera in questo caso siccome è una stringa quella che andiamo a mettere facciamo un setstring un setstring e qui ci scriviamo quello che noi vogliamo mettere quindi che ne so per esempio paperino e quale punto interrogativo deve andare a sostituire nel nostro caso siccome è il primo mettiamo uno non zero punto e virgola a questo punto la nostra query è pronta per essere eseguita quindi facciamo un prepq punto execute update dove sta punto e virgola possiamo anche fare una println scrivendo che qua provo ad inserire un nome e qua se va tutto bene facciamo un nome inserito benissimo a questo punto andiamo a controllare il database vediamo che la nostra tabella è vuota e andiamo ad eseguire tutta questa balasteria qua perfetto quindi si è connesso ha creato il database e tutto vediamo un po' io aggiorno vado nella tabella e trovo la riga 1 paperino mettiamo in un altro mettiamo filippo per esempio e rieseguiamo aggioriamo tutto quanto e questa volta troviamo filippo ovviamente non troviamo paperino perché abbiamo cancellato il database con questa drop database if exists quindi dobbiamo stare un pochettino attenti che altro c'è da dire se noi volessimo conservarlo potremmo tranquillamente togliere la drop database però dovremmo modificare la create table mettendo appunto un if not exists possiamo provare a farlo quindi commentiamo questo e commentiamo anche questa dopodichè andiamo qui e facciamo create table if not exists prova dopodichè il resto lo possiamo anche lasciare invece di filippo mettiamo ermene gildo benissimo volendo possiamo anche fare più inserimenti beh lasciamo uno per il momento e andiamo a rieseguire vediamo un po' eccolo qua quindi come vedete questa volta ce li ha lasciati perché non abbiamo appunto cancellato niente va bene ragazzi e io direi che per questo video ci possiamo anche fermare qui abbiamo visto un po' come chiudere per bene le connessioni come utilizzare i prepared statement che sono molto utili perché ovviamente questa cosa è molto modulare noi possiamo andare a cambiare questo valore di volta in volta ed è molto meglio che creare una query nuova ogni volta che dobbiamo andare a o meglio una stringa nuova ogni volta che dobbiamo andare a fare una query diversa quindi come inserire dei dati diversi anche perché c'è un problema di memoria con le string dato che quando noi modifichiamo una stringa in realtà non la stiamo modificando ne stiamo creando un'altra e stiamo cambiando l'indirizzo al quale quella stringa di prima puntava quindi diciamo che la memoria si sporca perché la stringa che avevamo in precedenza in realtà viene lasciata in memoria solo che non è più raggiungibile da nessuna variabile perché abbiamo perso diciamo il riferimento a quella stringa lì quindi andando ad aggiungere troppe stringhe in questo modo si rovina cioè no si rovina si perde spazio insomma e vabbè e quindi si danneggia un pochettino il rendimento del nostro computer perché rallenta va bene ragazzi io direi che per questo video quindi è tutto ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati se ci sono problemi fatemi sapere ci vediamo nel prossimo video con magari una una prova di come si vanno a leggere i dati che abbiamo appena inserito a dopo e quindi